La quarta edizione del Premio Architettura Toscana Arte sociale e sostenibile proiettata nel futuro La cerimonia di premiazione sarà il 13 giugno 2024 alla Palazzina Reale di Piazza Stazione a Firenze dove sarà allestita la mostra dei progetti vincitori Eventi Presentata la Guida Osteria d'Italia 2024 di Slow Food con una forte presenza di locali toscani In Sala Gonfalone la conferenza stampa con gli interventi di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale Marco Landi, portavoce dell'opposizione e Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato Un premio all'architettura contemporanea come arte sociale proiettata nel futuro con l'obiettivo di promuovere una qualità di vita migliore La quarta edizione del Premio Architettura Toscana presentato in Consiglio regionale valuterà le opere realizzate nella regione negli ultimi cinque anni suddivise tra cinque diverse categorie Il premio si consolida, ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e racconta il nostro presente con la capacità di guardare al futuro Avere la capacità di disegnare il nostro territorio con forme moderne apprezzando la storia e la cultura della Toscana sta alla base dello spirito di questa iniziativa Compito dei giudici sarà premiare la ricerca, la qualità del fare progettuale l'opera architettonica come strumento di rigenerazione trasformazione del territorio con un occhio alla sostenibilità e al rapporto tra uomo e ambiente Il premio infatti promuoverà quelle opere architettoniche sia private che pubbliche capaci di stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea in quanto elemento determinante della trasformazione del territorio in quanto costruttrice di qualità ambientale e civile in un processo che coinvolge tanti professionisti ed attori tutti determinanti all'interno della filiera architetti, committenti ed imprese La cerimonia di premiazione è in programma giovedì 13 giugno 2024 alla Palazzina Reale di Piazza Stazione sede di ordine Fondazione Architetti Firenze dove sarà allestita anche la mostra dei progetti vincitori Noi abbiamo voluto fortemente questo premio nella scorsa legislatura questa è la quarta edizione ed è un modo per raccontare il nostro presente ma anche avere la capacità di guardare al futuro avere la capacità di saper disegnare il nostro territorio nelle forme moderne ma anche apprezzando quello che è la storia l'arte, la cultura, la bellezza della Toscana sta alla base dello spirito di questa iniziativa è un modo per stimolare i più giovani a cercare di darci anche degli impulsi una strada da seguire perché poi le politiche di pianificazione richiedono grande capacità d'ascolto e questa iniziativa ha proprio questa funzione e sono contento oggi di essere qui insieme alla Federazione Toscana degli Architetti agli ordini degli architetti di Pisa, di Firenze, a Dance insomma tutti insieme e vogliamo costruire una comunità che guarda con speranza e ottimismo al futuro Senz'altro un momento prima cosa per sottolineare un lavoro fantastico che si fa e il lavoro anche sotto traccia che gli architetti fanno nel pensare lo spazio che poi tutti abitiamo o comunque che tutti vediamo anche quando si tratta di spazi privati una funzione che gli addetti ai lavori conoscono bene i decisori politici conoscono bene ma che l'occasione del premio consente di raccontare anche a un pubblico più ampio perché non è mai troppa l'iniezione di pensiero di visione che si fa sulle decisioni e sullo spazio pubblico specialmente oggi che i contesti cambiano velocemente le decisioni vengono spesso prese in frangenti di emergenza dove se non c'è un discorso e un pensiero dissodato o condiviso, assimilato è molto difficile fare scelte giuste quindi io ringrazio l'ordine degli architetti per questo premio per la fatica che fa a portarlo avanti con qualità e determinazione perché è fondamentale non solo per tanti professionisti che trovano ispirazione ma anche per tutti i cittadini e le cittadine oggi parte la quarta edizione quindi i progetti ancora non sono arrivati quello che noi facciamo è non scegliere i progetti i progetti partecipano liberamente e noi scegliamo una giuria una giuria che poi valuta questi progetti e come per tutti i premi la giuria è l'elemento fondamentale che dà la credibilità al premio la giuria di quest'anno come del resto degli anni scorsi sono delle giurie di grandissimo livello abbiamo Michele De Lucchi che è parte del presente della storia dell'architettura e del design italiano Michelle Carlana che è un giovane architetto in uno studio che si sta affermando sempre di più abbiamo Francesco Isidori che è il socio fondatore insieme a Maria Claudia Clemente di Labix che è un altro studio importantissimo italiano abbiamo Claudia Mainardi che è una componente di Fosbury Architecture che sono i curatori dell'attuale padiglione Italia alla Biennale di Venezia e Manuela Saporito che è una sociologa perché in tutto architetto è anche sociologa perché nel nostro premio fondamentalmente cerchiamo di dare anche un taglio che non sia unicamente disciplinare alla valutazione dei progetti i plus sui progetti voglio dire noi valutiamo una qualità in generale quindi il premio valuta diciamo parlare di qualità di un progetto è qualcosa di estremamente complesso è molto difficile quindi non ci sono degli elementi dei punti cardini al di là di quelli generici che crediamo siano necessari come base a partire dalla sostenibilità all'attenzione al consumo di suolo e via discorrendo che però non fanno un buon progetto ne fanno semplicemente un progetto corretto quindi alla giuria sta proprio la capacità di valutare quelli in più che un progetto ha rispetto ai requisiti base diciamo la prospettiva per la federazione e per tutto il gruppo di lavoro di questo premio architettura toscana è quello di veicolare il messaggio per cui l'architettura ma in particolar modo il progetto di architettura in tutta la sua complessità è il volano imprescindibile irrinunciabile esemplare per favorire meccanismi di rigenerazione di riqualificazione territoriale e paesaggistica complessivi che possano valorizzare il territorio regionale in primo luogo ma poi per estendere questo concetto a tutto il territorio nazionale noi riteniamo che sensibilizzare attraverso il premio architettura toscana la collettività in primo luogo ma poi anche le istituzioni tutte la filiera del mondo delle costruzioni e il mondo delle professioni tecniche sia imprescindibile proprio per produrre progetti di architettura che siano adattivi che possano rispondere alle esigenze del territorio di messa in sicurezza ma soprattutto anche come dicevo prima di rigenerazione e valorizzazione Nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso è stata presentata con successo la guida Osteria d'Italia 2024 sussidiario del mangiarbere all'italiana Osteria d'Italia è un viaggio nella ristorazione italiana più autentica raccontata tramite le visite e le recensioni di oltre 230 collaboratori 1752 i locali segnalati tra osterie agriturismi enoteche con cucina e ristoranti 311 indirizzi premiati con la chiocciola per l'ambiente la cucina e l'accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food 16 gli inserti dedicate a realtà la cui offerta impostazione sono interpreti di una tradizione gastronomica locale rintracciabili esclusivamente nella regione di appartenenza 151 i locali premiati con il bere bene un riconoscimento per la curata selezione di bevande birre artigianali succhi infusi cocktail e distillati 488 i locali premiati con la bottiglia per la curata selezione di vini l'osteria è un luogo tipico della Toscana ha detto Antonio Mazzeo presidente dell'Assemblea Toscana dove stare bene e andare con la propria famiglia in questa guida si vede la forte presenza della Toscana nella guida troviamo in Toscana 136 osterie di cui 13 novità e 28 chiocciole incluse le 5 nuove l'osteria è un luogo della Toscana l'osteria è un luogo in cui stare bene un luogo in cui andare con la propria famiglia e in questa guida si vede quanta Toscana ci sia 136 osterie 28 chiocciole che danno il senso di quella che è la capacità di questa terra di produrre soluzioni prodotti sostenibili di lavorare sulla biodiversità in questi anni si è fatto tanto ancora si può fare perché la Toscana in questo campo vuole continuare ad emergere per me è un vero piacere promuovere nuovamente presso la sede del Consiglio regionale della Toscana la guida nazionale delle osterie d'Italia Slow Food un presidio importantissimo nella nostra regione che dà non solo qualità da quella energia a tutti coloro che promuovono e che lavorano su questa guida rapportata al valore del cibo della nostra regione che ha una valenza incredibile perché richiama quel lavoro dell'uomo nel mettere mano ai cibi con le caratteristiche territoriali della nostra regione e quindi grazie veramente a chi ha curato questa guida grazie a chi è intervenuto perché nuovamente diamo lustro e importanza a chi mette tanto lavoro a tutti gli osti e a tutte le persone che stanno poi a gratificarci con il loro cibo e gratificano i nostri palati nelle osterie della nostra regione quindi grazie davvero io penso che sia importantissimo proprio nell'anno in cui come sistema paese proponiamo all'UNESCO la cucina italiana come patrimonio mondiale dell'umanità e di conseguenza pensiamo che proporre la cucina italiana in questo momento proporre le tradizioni proporre la qualità e proporre il territorio vuol dire ancora una volta abbinare l'agroalimentare ai territori e quindi vuol dire abbinare l'agroalimentare al turismo le osterie rappresentano qualità perché hanno dei prodotti di altissimo livello e legati alla tradizione e quindi la tradizione dei piatti della nostra cucina e soprattutto i territori da dove arrivano non c'è un'osteria uguale all'altra non ci sono dei franchising non ci sono delle multinazionali che gestiscono osterie ma ci sono famiglie legate al territorio legate alla tradizione e legate ai prodotti locali quindi benvenga Slow Food quando valorizza e lancia guide come queste abbiamo la fortuna abbiamo la fortuna di avere due curatori regionali estremamente validi e un gruppo di collaboratori estremamente validi che hanno la passione nel visitare nel viaggiare il nostro territorio alla scoperta di osterie botteghe che come diceva prima Francesca sono entrata a far parte della guida e abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinario che dà spunto ai nostri ristoratori per fare un lavoro eccellente nelle loro osterie prima si diceva che in Toscana si sta bene si si sta bene le persone vengono in Toscana per stare bene vanno nei locali per stare bene infatti i locali che sono in guida sono locali accoglienti perché questa è la vera forza delle osterie che noi mettiamo in guida e gli osti che sono lì presenti sono osti che hanno a cuore il loro territorio hanno a cuore la sostenibilità del proprio territorio e promuovono le produzioni agricole e artigianali del territorio dove loro stanno e quindi fanno un'operazione non solo gastronomica ma un'operazione estremamente culturale i numeri sono sempre più incoraggianti abbiamo 1752 osterie recensite quest'anno con un numero sempre maggiore di chiocciole non perché siamo di manica larga ma perché effettivamente la qualità e l'attenzione rivolta da parte dei ristoratori nei confronti del territorio è sempre più profonda e più alta per cui c'è una sinergia con la comunità che sicuramente va raccontata e va anche premiata andiamo a cercare tutti quei locali in cui c'è sicuramente una fortissima attenzione del territorio e delle materie prime dei luoghi che raccontino e quindi esprimano il luogo in cui ci si trova e soprattutto in cui si sta bene in cui si mangia bene e bene in cui l'accoglienza è un valore fondamentale per l'esperienza complessiva per il consumatore quest'anno la Toscana è la regione con il maggior numero di locali recensiti ma anche il maggior numero di chiocciole in particolare una chiocciola di cui siamo molto molto felici che è quella data a un trippario per cui una delle novità di quest'anno è che i riconoscimenti come la chiocciola la bottiglia il bere bene che sono dei riconoscimenti storici l'ultimo un po' meno sono dati anche quei locali che noi definiamo locali degli inserti ovvero locali che non sono osterie ma che raccontano una specificità gastronomica regionale che si può trovare soltanto in questa regione quindi tra tutti gli inserti c'è ovviamente quello di Trippai Fiorentini e abbiamo anzi la squadra ha deciso di premiare Leonardo Torrini proprio per il livello di qualità e di racconto anche storico che fa per questo specifico tipologia di attività che fa un po' meno che fa l'ultimo è che fa in la squadra Grazie a tutti.